Calcio in tv, è morto Aldo Biscardi, l'inventore del processo del lunedì Biscardi era ricoverato da qualche settimana al Policlinico Gemelli, assistito dai figli, Antonella e Maurizio. Da tempo aveva lasciato il video, dove aveva debuttato nel 1979, alla Rai. È del 1980 l'ideazione del programma Il processo del lunedì, primo talk show sul mondo del pallone di cui divenne anche conduttore nel 1983, moltiplicandone il successo. . Dopo qualche anno, grandi successi e molte polemiche, il giornalista nel 1993 lasciò la Rai per passare a Tele+, dove esordì col nuovo programma Il processo di Biscardi, che trasferì poi, sempre con la stessa fortunata formula su altre emittenti, da Telemonte Carlo a 7 gold. . Nel 2015 Biscardi aveva lasciato la sua creatura Vanta il record di longevita, certificata dal Guinness dei Primati, che ne aveva riconosciuto già nel 2013 33 edizioni consecutive con lo stesso conduttore ai figli, che hanno ereditato il marchio. . 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